uno si chiamava gabriella ma tutti le dicevano gabriellina per via del suo aspetto minuto raccolto e quasi rannicchiato in una adolescenza di cui si era lasciata alle spalle gli anni di un seno che andava facendosi via via troppo importante e sproporzionato e scostumato per via della prepotenza con cui si formava e una bambola di pezza lisa e stropicciata rimediata chissà dove e che ora non serviva più le avevano dato quel nome i suoi genitori per via della devozione al santo patrono il giorno che era nata e non ci pensarono più troppo onere e nessun onore scegliere un marchio che un qualsivoglia erede non si parli poi del fatto che si trattava di una femmina avrebbe portato con sé tutta la vita nel peggiore dei casi ci avrebbe pensato il paese a dargliene uno più consono mormorandola con un soprannome cui non avrebbe comunque fatto caso come avevano fatto per orlandina la vecchia signorina del paese che non volle mai pigliar marito dopo che orfeo che avrebbe dovuto sposare entro pochi mesi cadde ma con una croce di ferro al merito dopo aver messo i piedi su una mina mentre cercava qualche rimasuglio di cicerchia in un campo rinsecchito Irlanda si chiamava e orlandina non c'entrava proprio niente e a gabriella non pareva il vero di essersela cavata come lei con un diminutivo se ci si soffermava a pensare che a flora la proprietaria dello spaccio di rimpettaio al portone di casa sua dato il nomignolo di la ciopparella per via di un suo leggero claudicare e del fatto che no non si era casata nemmeno lei preferendo restare a vivere col fratello gelasio e occuparsi di quel po di pasta sfusa che le donne del paese andavano chiedendole in rituali che a gabriellina che li guardava dal di fuori scostando la tenda di plastica che scendeva giù dall'ambiziosa insegna emporio sempre e comunque uguali a loro stessi come tutta la vita suo padre invece di nome faceva costantino ma era solo un segnone grafico di nessuna importanza già che dopo che il fratello minore di gabriellina era venuto al mondo dopo averne veduta la luce per un bagliore e averla persa per sempre restituendo la sua anima innocente a quello stesso mondo cui pure apparteneva non si era ripreso più e aveva perduto senno dignità e parole le uniche cose che in paese contassero veramente non che di senno e dignità ne avesse mai avuti da vendere al mercato costantino ma le parole che gli erano rimasti addosso si riducevano a due espressioni scollegate che ripeteva come quando sua sorella filomenetta si purgava l'anima viascicando un pater ave gloria prima di dormire per christ e ddc la prima la pronunziava accompagnandola da un sorriso infantile e quasi imbarazzato ogni volta che qualcuno gli si rivolgeva con qualche discorso di circostanza buttato lì alla bene meglio costantino fa caldo eh per christ oppure se qualcuno gli offriva un bicchiere della cantina ti piace il vino costantino per christ lo si poteva trovare incurante del fatto che fosse di giorno o all'imbrunire seduto sui gradini di pietra disuguali in altezza e levigati per il troppo camminarci continuamente sopra mentre rintuzzava con dita nervose e sempre più magre un ramo scello di legno ancora verde che ripuliva ogni mattina con un coltellino dalla lama sottile e affilata perché le parti ossidate dell'aria venissero raschiate via in un rituale propiziatorio solo del suo di presentarsi il giorno appresso poi soprattutto in estate quando la calura si faceva impietosa e pigliava la coccia come dicevano i vecchi del paese succedeva che qualunque non nulla venisse a turbare la mente perduta di costantino questa entrava in un vortice senza apparente via di fuga quasi si avviluppasse su di sé avara di parole ma generosa della sua assenza alle convenzioni del mondo ripeteva ossessivamente il povero disgraziato facendo caducare l'incomprensibile con toni e frequenze discordi quando come fosse un sospetto quando ancora come si trattasse di una litania e infine come l'espressione di una vera e propria implorazione al cielo probabilmente l'unica realtà della sua misera esistenza che potesse ascoltarla era allora che gabriellina si muoveva per andarlo a prendere e riportarlo in casa dove lo sventurato si ripigliava poco a poco e quando era cessata l'ossessione sorrideva con un cenno di soddisfazione per essere uscito dal labirinto intricato e tortuoso della sua mente e riprendeva per Cristo seguito da un sospiro di sollievo stai meglio papà lo vedi che non è successo niente statti in un poco con me che fa caldo fuori e il caldo porta alle malattie ed era allora che Costantino si rammutoliva e passava sul viso di gabriellina una carezza ruvida e incallita come il palmo delle mani che conservavano i segni di un lavoro che l'infermità gli aveva cancellato dai ricordi come tutta la vita appunto